Ho sempre desiderato essere un'eroina. Pixie! In posizione, mia valorosa turma! Gli eroi erano umani alti e forti, Pixie, non topolini come te. Il mio eroe preferito fra tutti è... Giasone. Lui ha riportato a casa il bello d'oro. Mostriamo a Zeus la nostra gratitudine. A Zeus, signore dell'Olimpo. Meravigliosa! È la statua più bella che mi abbiano mai fatto! Di certo me la merito! Di certo te la meriti! D'accordo. Avete sette giorni per erigere la mia statua. E che sia bella quanto quella di mio fratello. Il conto alla rovescia è iniziato. Avanti, piccola. Contano su di noi. Andiamo all'avventura! Andiamo! Stai bene, Sam? È una perdita di tempo. Pixie, lascia perdere. Ma il destino di Yolkos è nelle nostre mani. Dobbiamo andare avanti. Andrà tutto bene e viaggiamo col più grande eroe della Grecia. Ando il tocco! Chissà come si affronta il maltempo sulla barca. Hai forse un po' di mal di mare? Non sono ancora molto pratico. Sin Zeus, fulmini! E poi ancora fulmini! È quello che volevi, giusto? Scendere da questa barca anche senza una meta. Mi farò vedere io! La missione ha inizio. Dimostriamo a queste ciclopedi che pasta siamo fatti. Pronti? Siamo pronti! Piccoli eroi. Avanti! Per un viaggio mitico. Lasciala stare! No! Siamo una famiglia e possiamo fare qualunque cosa insieme. Argonauts Missione Olimpo. Con le voci della Space Family e di Chiara e Mattia Fabiano. Prossimamente solo al cinema. Radio Italia. Radio Ufficiale. La pubblica! Quindi, persone? No! Non so, è un foro. Chiara, chiara, chiara. Mi parla! Ma, io nonав!